Posso chiederti Nora cosa hai portato dal Marocco? Prima di andare qua? Sì, sono portato tante cose belle del mio paese. Il mio paese è un paese della libertà, è un paese della pace. Noi siamo muslimani però vogliamo anche altre nazionalità. Siamo persone più aperte di tutte le altre regioni e altre lingue. Ok, allora io direi libertà. Cosa hai portato?